Buonanotte, io sono Loretta Galli, una stilezza di ricami, di stilezza di moda all'uomo, moda a donna. Vengo da varie parti del mondo a portare la novità, la extravaganza e i colori, i cristalli, la sfumatura dell'uomo, della donna e dei cristalli. E buscando tutti i colori per poter farti vedere chi è la trasformazione dell'uomo-donna, del cristallo uomo, del cristallo donna, la perla del Mediterraneo. La bellezza dell'arte, di poter contemplare la gioia di ogni sera a una era molto speciale, di colori, che cambia, che è una metamorfosi tra tutti i nostri pensieri e nostra bellezza. Una bellezza diversa, la donna uomo, uomo-donna, una classe, da Givenchy a Chanel, da Valentino a Couture, una magica solo di tradizione e molta riqueza. Perché la riqueza esce da dentro di noi. Amici di Roma, la nostra capitale eterna, la nostra Parigi, la nostra Londra, la nostra New York, la nostra parte più bella del mondo, è Cora. Non dimenticare che Loretta Galli è a Roma per voi. Ciao, ciao. Stai con me.